Dylan Dog 432, io ti proteggerò. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Dylan Dog. Continuiamo a parlare della serie regolare con il numero 432, freschi di queste notizie che abbiamo ricevuto sul fatto che il nuovo, lo speciale di quest'anno, non sarà sul pianeta dei morti, ma appunto resetterà, se così vogliamo dire un attimino, tutte le sperimentazioni che hanno fatto in Dylan Dog negli ultimi dieci anni per portare il medesimo Dylan Dog a una linea più classica. Questo cosa comporterà? Comporterà che non ci sarà più l'Old Boy, l'Old Boy e la serie regolare saranno la stessa cosa? Il Color Fest non sperimenterà più ma si limiterà a mostrarci delle storie semplicemente a colori? oppure non esisterà più nulla di tutto ciò e ogni tanto avremo dei numeri colorati e dei numeri in bianco e nero? Non lo so, non ho ancora letto lo speciale, però ho letto questo numero e ora ve lo vado, ve ne vado a parlare. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano i fumetti e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero e di questo mio video. Fatemi sapere che speranze avete per il futuro di Dylan Dog. Vi prometto che d'ora in poi darò priorità a Dylan Dog. Sono in ritardissimo per questa recensione, ho dato priorità ad altre recensioni su video che vanno ovviamente molto meno sul mio canale, proprio perché magari parlandone prima potessero racimolare qualche views in più, ma così non è stato, quindi tanto vale invece dare priorità, dare fiducia a chi mi segue di più. Quindi i numeri, le recensioni di Dylan Dog e di Samuel Stern usciranno sempre in orario d'ora in poi. In orario. Come i treni. Puttana la madre. Dylan Dog 432, io ti proteggerò, con soggetto di sceneggiatura di Gualtieri e i disegni di Luca Raimondo, ci regalano una storia, che io ci tengo sempre a dirlo, che è perfetta. Nel senso, io mi riferisco a come è disegnata, come è strutturata. È una storia con una griglia classica, ma ciò nonostante è una storia moderna, non si percepisce qualcosa di antico leggendola. Ci sono, non lo so, è uno stile di disegno che mi piace un sacco. Il dettaglio nella pagina iniziale, con questa casa tutta lasciata andare, no? Con questo tempo che ha, diciamo, inficiato tantissimo su questa casa. Se notate la casa accanto è tenuta molto molto meglio, proprio perché questi protagonisti non escono di casa. E diciamo che darci subito questa sensazione di una casa, degli orrori, è stato fantastico. Ci ha mostrato proprio un'inquadratura molto moderna. Mi ha ricordato anche un po' la casa del numero 25 di Samuel Stern, l'angelo del focolare. Anche se qui il problema è nettamente diverso, però ecco, questa casa tenuta così, anche se non ha nulla di inquietante di per sé la casa, mi ha ricordato quel numero. Il numero invece dovrebbe richiamare quei, diciamo, quegli horror slasher movie dove c'è appunto su tutti The Chainsaw Massacre, quello della... Non aprite quella porta, credo fosse il titolo italiano. Scusate, io sui film horror non sono molto ferrato. Che appunto parla di questa famiglia molto disturbata che, diciamo, maltratta, tra molte virgolette per non dire di peggio, i malcapitati ospiti che incautamente vanno alla loro porta. Ma, nonostante questo, non è semplicemente una delle tantissime storie, delle primissime storie di Dylan Dogg che ricalca un film horror e lo italianizza un pochino, o l'inglesizza se vogliamo dirla in questo modo, ma invece ci mette sempre questo carico che io adoro, questo carico sociale in cui appunto questa famiglia è chiaramente complessata, chiaramente ha troppa paura di uscire di casa. Io ci ho anche visto una storia scritta in piena pandemia sicuramente che potrebbe aver ispirato l'altra faccia, diciamo, della paura pandemica tra chi invece se ne sbatteva fin troppo le balle e si scopriva jogger, si scopriva scenditore di cani. Qua invece c'è l'altra faccia della medaglia, ovvero persone che hanno smesso totalmente di uscire di casa da tanta che era la paura del mondo esterno. In questo caso ovviamente non c'è stata la pandemia, ma c'è stato un incidente, un incidente, c'è stato un fatto molti anni fa che ha sconvolto quella che ormai è la matrona di casa, la madre che ha tenuto al sicuro i suoi figli da tutto ciò che c'era nel mondo esterno. Questa iper follia, questa iper paura che è stata anche data dall'insistenza dell'opinione comune, dall'insistenza dei giornalisti, della gente che ha voluto sapere perché suo marito tanti anni fa a un certo punto ha fatto una strage. Non c'è dato sapere cosa è successo realmente, il focus non è su quello, non è quello l'obiettivo, non c'è un risvolto alla fine dove si scopre che il marito ha fatto una strage perché era la moglie in casa che lo faceva a mattire. Non è importante perché è successo quello, è importante che sono importanti le conseguenze che invece hanno portato il resto della famiglia a conciarsi in questa maniera. Molto interessante il piccolo plot twist iniziale in cui a me pareva che Dylan cercasse la ragazza sulla sedia a rotelle, la più piccola della famiglia, invece no, stava cercando la sua ennesima nuda del mese, la sua amatissima del mese che appunto è un assistente sociale, era andata a casa a sostituire tra l'altro un collega che se ne guardava bene dall'entrare troppo nei meandri di questa famiglia, si limitava a fare roboticamente il suo lavoro per poi uscire al più presto. Questa ragazza che vede invece una situazione di degrado totale in casa con i sacchetti delle monnezza che sono praticamente raccimolati, accumulati in casa piuttosto che portarli fuori perché questi non escono manco sull'uscio, si preoccupa e soprattutto si preoccupa della salute della figlia sulla sedia a rotelle che è malata e deve prendere dei farmaci e cerca di fargli capire semplicemente con un'interazione sociale, nulla di psicologico, cerca di fargli capire che il mondo esterno non fa così tanta paura e di tutta conseguenza il figlio più grande che invece pare avere una piccola cotta su questa ragazza che ha diciamo su di lui la fortuna, l'ascendente, di poter respirare, quindi probabilmente è l'unica donna che ha visto da tutta la vita e dal momento che è sempre stato chiuso in casa e quindi la rapisce, la tiene con sé per i suoi scopi oscuri che fortunatamente pare non siano stati portati a termine, però è comunque tutto molto deviato e disgustoso. Dylan Dogg in una scena con Block in cui anche qui potrebbe essere suo padre, potrebbe non essere suo padre, non si sa se il numero di per sé è stato pensato per il post-meteora o per il pre-meteora, ma anche se fosse sarebbe talmente sottile la differenza che non ne risente la storia, quindi comunque è una cosa che ho trovato molto gestita bene, in una scena con Block riesce in un certo senso a salvare la situazione, se non altro perché si fa stupidamente rapire anche lui e in questo modo va a suscitare la preoccupazione di Scotland Yard. Devo dire che in questo caso il numero Io ti proteggerò mi aveva un pochino, scusate la copertina di Io ti proteggerò mi aveva un pochino dato una falsa pista, io ero convinto che ci fosse una sorta di storia d'amore fin troppo malato, fin troppo protettivo con Dylan Dogg, direi che quasi speravo che il finale del numero scorso non fosse appunto diciamo tagliato con una storia che sarebbe potuta essere una nuova storia nel nuovo numero e avrei voluto vedere questa timida ragazza dello scorso numero che passata la cotta per il fantasma si invaghiva di Dylan Dogg che l'aiutava a risolvere il suo caso fino al punto da rapirlo e chiuderlo in casa, invece è una storia un po' più classica, ma comunque me la sono goduta tantissimo, i disegni come ripeto mi sono piaciuti da matti, mi segnerò assolutamente, voglio memorizzare, cosa che non riesco mai a fare, il nome del disegnatore per andarlo a cercare in future storie, anche quest'altra inquadratura della casa con la pioggia è stupenda. L'unica cosa, l'unica pecca che non mi è piaciuta molto è il finale dove anche la ragazza in questione, l'innamorata del mese di Dylan Dogg, tira le cuoia prendendosi un proiettile al posto di Dylan. Ora questa cosa l'abbiamo già vista di recente, è sulla prima storia dell'ultimo old boy, c'è sempre l'innamorata di Dylan Dogg che prende un colpo di pistola al posto di qualcun altro. Sa un po' di già visto soprattutto perché sono molto molto vicini i due numeri, ma a parte questo, che può capitare nel senso nel marasma una svista di mettere due storie così vicine tra loro, a parte questo il numero è uno dei più graditi degli ultimi tempi. L'altra piccola pecca è che forse perché anche questa volta non solo lo sto recensendo tardi, ma l'ho anche letto tardi rispetto all'uscita, probabilmente l'ho letto un po' troppo freddo, mi era passato un po' l'entusiasmo di portarlo a casa dall'edicola e leggerlo al volo, però a parte questo cercherò appunto di rimediare nei prossimi mesi, anche per questo che voglio leggere subito una storia e parlarne subito perché mi entusiasma molto di più, però a parte questo ripeto una delle storie più belle degli ultimi tempi. Vedremo, vedremo cosa succederà nel futuro di Dylan Dogg, noi ne parleremo sicuramente anche in live con i soliti amici con cui parlo di fumetti, ormai le live sono sul sito Viola, per ora la situazione è questa, non so se in futuro cambierà, ma vedremo. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.